Continuano ad essere preoccupati i lavoratori, perché? Perché ancora la cassa integrazione non tutti l'hanno ricevuta. Hanno ragione a essere preoccupati perché nonostante ci venga detto che c'è stata un'accelerazione, in effetti la regione ha sostanzialmente autorizzato tutte le richieste che ci sono, i ritardi comunque permangono e di circa 8 mila lavoratori che sono in cassa integrazione in deroga hanno riscosso la mezzalità di marzo solo circa il 20-30%. Siamo quasi a giugno e quindi è assolutamente importante continuare in questa accelerazione. Il decreto prova a dare una risposta in questa direzione perché nel decreto si prevede intanto la possibilità di pagamento diretto da parte delle aziende, una procedura più snella e comunque il fatto che l'Inps possa anticipare anche in attesa di ricevere tutta la documentazione almeno il 40% e questa era una delle cose che noi chiedevamo. Naturalmente la questione non si risolve con un semplice decreto. La CGL chiede una riforma strutturale degli ammortizzatori sociali, però oggi bisogna dare delle risposte immediate. Non si può andare a colpi di diverse tipologie di cassa integrazione, una tantum bonus. I lavoratori sono tutti uguali e ricordo anche che la cassa in deroga è a carico della fiscalità generale e quindi la paghiamo tutti noi. Un sistema dove tutti pagano e tutti ricevono a partire anche da una riforma fiscale è quello che noi auspichiamo e che chiediamo anche a questo governo.